artis lo trovi a nocera superiore in via della libertà 60 62 la nocerina ha conseguito a spese del nardò allo stadio san francesco la sua quarta vittoria del campionato i gol del definitivo 2 a 0 dei molossi sono stati realizzati da d'ammacco e da simonetti a quattordicesimo la prima rete dei rossoneri rigore provocato su donida dagli 11 metri l'ex attaccante del matera d'ammacco supera petrarca vantaggio fin qua meritato nella ripresa il nardò reagisce con le conclusioni di cancelli mengoli e de giorgi ma la nocerina in contrattacco è mortifera e al terzo minuto di recupero simonetti autore di una bella azione mette il pallone in rete per il 2 a 0 definitivo i molossi restano nei quartieri alti e domenica prossima saranno ospiti del san giorgio